Risotto Introduci il burro nella ciotola e applica il gancio a mezzalume. Imposta la temperatura su 140 gradi e la velocità su 1 e cuoci fino a far sciogliere il burro. Aggiungi il riso e cuoci per 2 minuti mantenendo la temperatura ma portando la velocità di mescolamento a 2. Abbassa la temperatura a 100 gradi. Versa il vino e continua a mescolare finché non sarà completamente assorbito. Aggiungi il brodo e imposta il timer su 18 minuti. Regola di sale e servi in tavola.